Perché no? È la domanda che arriva dalle parafarmacie, escluse dal percorso dei test sierologici rapidi partiti lunedì scorso nelle farmacie delle Marche. Già da ottobre, ricorda la coordinatrice regionale Daniela Clini, abbiamo offerto la disponibilità ad eseguire questi test utili a scoprire e tracciare i potenziali positivi. Ma dalla regione abbiamo ottenuto risposte inadeguate, abbiamo consegnato due dossier con i protocolli per ridurre il rischio di contagio, risposte zero. Poi, negli incontri avuti con i funzionari e gli assessori, c'è stato detto che i sierologici non interessavano perché non utili a individuare i positivi al momento del test. Allora abbiamo offerto la disponibilità ad effettuare i tamponi rapidi capaci di diagnosticare un'infezione in atto, ma anche qui nessuna risposta. Chiedevamo solo di non essere esclusi. Che cosa è successo? Ci sono state opposte una serie di ragioni che noi abbiamo prontamente e precisamente confutato. E vorremmo ricordare che noi siamo farmacisti e abbiamo delle strutture adatte ad effettuare gli stessi test che effettuano le farmacie. Sono stati contattati, prosegue la dottoressa, anche i tre assessori della provincia di Pesero Urbino, Carlonia, Guzzi e Baldelli, ma siamo ancora in attesa di una loro risposta. Il virus non risponde a logiche corporative, ha detto la Clini, ed è bene coinvolgere più soggetti per contrastare la pandemia. Ha maggior ragione se l'offerta è spontanea e a costo zero. Confermiamo la nostra disponibilità. Da una regione come la regione Marche, che ha cambiato colore e che dovrebbe essere in questo momento disponibile a difendere la libertà di ognuno di noi ad effettuare, a svolgere la propria professione, questo atteggiamento di totale chiusura sicuramente non ce l'aspettavamo.